Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Gesto a sorpresa della showgirl e ballerina Lorella Cuccarini nei confronti di una nota ex protagonista di Amici di Maria De Filippi Lorella Cuccarini a partire dal prossimo mese di settembre sarà ancora una protagonista assoluta di Amici di Maria De Filippi La conduttrice e gli autori le hanno quindi chiesto di tornare per il terzo anno consecutivo. In occasione della prima edizione si è occupata della categoria ballo mentre nella seconda di quella del canto, stessa posizione che occuperà anche in questa nuova avventura In attesa di scoprire chi saranno i suoi prossimi allievi, la showgirl continua però ad omaggiare i protagonisti dell'anno scorso In queste ore è stata infatti immortalata mentre canta una canzone della sua ex allieva Sissi Prima del ritorno nello studio dello storico talent di casa Mediaset, la nota showgirl sta trascorrendo un periodo di vacanze con la sua famiglia in Sardegna Per l'occasione su social è apparso un video con la showgirl protagonista intenta a guidare e non solo Nelle immagini si vede infatti la Cuccarini cantare una canzone in realtà conosciuta ed amata dal pubblico di Amici ovvero Scendi di Sissi Una bellissima conferma per la giovane artista che a distanza di mesi dal gran finale del format può contare ancora sulla stima della sua ormai ex coach Questa non è però una novità per Sissi e nemmeno per la showgirl Durante tutta la durata del programma, la giovane artista si è vista sempre convinta del supporto di Lorella, soprattutto nella fase serale quando le cose sono diventate più complicate Dal canto suo anche la Cuccarini con i suoi gesti e le sue parole ha sempre dimostrato di apprezzare le doti umane ed artistiche della sua giovane allieva Inoltre, la showgirl ha sempre dimostrato di tenere a tutti i suoi allievi anche una volta terminata la gara Basti pensare al rapporto che ancora oggi la lega a Martina Mille di Rosa di Grazia, entrambe sue allieve e ballerine due anni fa ad Amici Più volte sui social la Cuccarini ha pubblicato foto in loro compagnia al termini dei rispettivi spettacoli, segno quindi che segue con attenzione l'evolversi della carriera di chi per diverso tempo è stato suo allievo Un dettaglio confermato quindi anche dalle immagini di lei che canta Sissi e che in poche ore sono diventate virali sui social Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti